Tu lo sai che c'è un posto che io devo trovare? So che hai fatto una rapina. E che altro sai? Che non sei un rapinatore. Quell'infermina, lo sapevi no? E tu come lo sai? Mi piace tenermi informato. Ma quest'amico tu, qua, è venuto a fare. Una bella vacanza sulla neve. Via! Vai, vai! Si può sapere che hai fatto? Non c'è bisogno di aver fatto qualcosa con lui. Io voglio sapere quello che è. Putta! Ma cosa sta? Lo farò purta già se caldo. Io voglio sapere quello che è! Dentro c'era uno, Michele. Parlava di una banca, di una piazza, di un morto e di tanti soldi. Tu lo conosci davvero mio figlio? Dicono che coi soldi si compra tutto. Ma io non c'ho un cazzo. Faccio un lavoro del cazzo. Perché? Te dove vive? In Germania. Ah, allora ci sta abituata a tutto sto freddo. A presto. A presto. A presto. A presto. Grazie a tutti